Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri In questa edizione del Telegiornale A Pesaro non si placano le polemiche per i balli di Ferragosto Nelle spiagge sotto accusa alcuni gestori Mentre a Fano i bagnini hanno preferito rinunciare al divertimento e puntare sulla normalità Sono in lieve miglioramento le condizioni del sessantenne fanese ricoverato in terapia intensiva Pesaro ieri ha effettuato il terzo e ultimo ciclo di plasma iperimmune Un coro di no per chiedere al sindaco di Fano di annullare la fiera di San Bartolomeo Nelle prossime ore la giunta deciderà se farla oppure no Un camion di Aset urta durante una manovra contro un balcone Per fortuna solo danni e nessun ferito Ricci dà dello sciacallo in diretta streaming al consigliere d'opposizione Nicola Baiocchi Durante un consiglio comunale e lui lo querela Dopo il Telegiornale trasmetteremo la terza puntata di Missione Salute Questa sera il dottor Andrea Farnese darà alcuni consigli alle persone ricoverate per Covid-19 Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del Telegiornale Resta invariato a 13 il numero dei ricoverati per Covid nelle Marche I positivi domiciliari salgono a 182 Mentre un paziente è ricoverato in terapia intensiva Nonostante l'allerta dei contagi Il ferragosto pesarese è stato trascorso in alcuni locali senza regole e distanziamento fisico Francesco Salvago Spiagge pesaresi movimentate a ferragosto Diverse le segnalazioni di cittadini e attività commerciali Che non hanno voluto prendere in considerazione l'ordinanza del sindaco Ricci Che vietava balli e feste per la giornata con obbligo di indossare la mascherina Il rimprovero da parte del sindaco non è tardato ad arrivare In alcuni stabilimenti balneari è intervenuto chiedendo al comandante della polizia locale Le autorità che hanno redatto i verbali di predisporre la chiusura per due giorni di bar e ristoranti Che non hanno rispettato l'ordinanza Tra questi sono stati sanzionati Itacabiche e Maia Bay di Sottomonte Per non aver contenuto la folla che si è messa a ballare Sì abbiamo avuto una sanzione Sono arrivati i vigili alla sera verso le 10 E ci hanno comunicato la sanzione E ci hanno detto che ci arriverà comunque la sanzione i prossimi giorni Ai vigili così gli sono arrivate delle segnalazioni Anche se noi premetto è il primo anno che gestiamo un lido balneare E c'eravamo comunque premuniti per rispettare tutte le sanzioni Avevamo comprato 300 mascherine Avevamo i buttafuori Volevamo fare musica d'ascolto per i nostri clienti Essendo Ferragosto Quindi non li volevamo noiare ma soltanto divertirsi un po' tra di noi E infatti fino a verso le 5 Era tutto a norma Ovviamente c'era gente A Ferragosto penso che c'era gente in tutte le spiagge Non solo da noi Il DJ ha comunicato anche 3-4 volte di non fare assemblamenti, di non ballare Ma quando è stato verso le 5-6 è arrivata altra gente anche dalle altre spiagge E non c'erano solo i nostri bagnanti ma c'erano altra gente Però se abbiamo sbagliato chiediamo scusa e paghiamo quello che dobbiamo pagare Ai Bagnitaca sono a corse le pattuglie dei carabinieri e della municipale Dopo una ventina di chiamate dei passanti Il gestore non è voluto intervenire ai nostri microfoni Sulla stampa si apprende che pagherà la sanzione Conferma che c'è stato il caso di assembramento Ma non se la sentiva di spegnere la musica di fronte alla gente che ballava Il sindaco consultandosi con il prefetto Ha chiesto un'informativa scritta al comandante della polizia municipale Sui motivi per cui gli organi deputati e la vigilanza Tra cui forze dell'ordine comprese non hanno garantito l'osservanza Delle prescrizioni contenute nell'ordinanza In una nota il comandante della municipale Gianni Galdenzi Fa sapere che i bagnini pagheranno se hanno sbagliato Mentre il sindaco avrà una relazione quanto prima Come è stato chiesto via social network Stop alle danze anche a livello nazionale Il governo ha deciso di sospendere tutte le attività del ballo Che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo Ai locali assimilati tra cui anche le spiagge A partire da oggi è di obbligo mascherina dalle 18 alle 6 Anche all'aperto e nei luoghi pubblici La decisione avrà effetto almeno fino al 7 settembre prossimo Sono d'accordo che bisogna rispettare sicuramente le regole Anche se si dice di non fare troppo allarmismo Ma dobbiamo stare attenti Noi siamo stati attenti 3-4 mesi Quindi vediamo di proseguire finché non abbiamo la certezza Che le cose vadano migliori Ci vuole anche buon senso da parte nostra Non dobbiamo aspettarci che siano gli altri a dirci che cosa fare Un minimo di buon senso ci aiuterebbe tutti Abbiamo preso anche dei treni Verso le 10 di sera per andare anche in riviera Eravamo gli unici con la mascherina E quindi diciamo che mancano controlli Perché non c'è... Il controllore non controlla i biglietti Non c'è la polizia Nei locali invece i giovani come si comportano secondo voi? Nì, nel senso che alcuni c'è Rispettano le regole Altri però in qualche modo si credono un po' immuni Come dire siamo giovani e non ci succede niente C'è un po' mancanza di consapevolezza E' quello secondo me il problema più grande Avete passato il feragosto qui a Pesaro se posso chiedere? L'abbiamo passato sui Monti Sibillini E là comunque c'è all'aperto Comunque sono camminate un po' impegnative Quindi c'era, eravamo abbastanza distanziati C'era comunque anche chi camminava con la mascherina eccetera I giovani effettivamente no, non portano le mascherine E non rispettano le distanze Specialmente al Lido di sera è da evitare La mascherina tra i giovani si usa? Tra i giovani guarda ce l'abbiamo anche dentro la borsa Ce l'abbiamo, la portiamo addosso Così almeno ci tocca entrare da qualche parte e la mettiamo Per forza ormai è un uso quotidiano Sui locali proprio c'è, la gente è tanta Però non si rispetta niente, per niente proprio Però purtroppo è così E adesso le conseguenze le abbiamo viste, hanno chiuso tutto Si sono radunati qui con i gazebi Comunque noi siamo tutti a nucleo familiare in poche parole Ma il rispetto comunque l'abbiamo portato Noi abbiamo tutti la mascherina, come ci muoviamo ce la mettiamo su Fino alle macchine Tutto qui, se facessero un po' anche i giovani sarebbe meglio Un'ordinanza giusta dunque quella di Ricci, ma nata per Ferragosto Penso di sì, adesso vediamo i risultati fra qualche giorno E che i giovani purtroppo hanno questa idea Come dire che loro sono immuni da tutto Noi abbiamo due figlie, anche le nostre Ce l'abbiamo anche con loro perché sinceramente È come se fossero immuni da questa cosa Invece purtroppo non è così E quindi si divertono, l'importante è il divertimento Ci vorrebbero più controlli, non serve dirlo postumo Bisogna farli prima, bisogna predisporre prima in maniera che si facciano Io ho fatto il vigile 30 anni, quindi ne so qualcosa Ed è in condizioni stabili, anche se in leggero miglioramento Il paziente fanese di 60 anni ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva A Pesaro dopo aver contratto il coronavirus Ieri gli è stato eseguito il terzo e ultimo ciclo di plasma iperimmune Il quale i medici gli hanno associato anche un farmaco che si chiama Remdesivir Si tratta del secondo paziente trattato con il plasma Il primo è stato effettuato su un 67enne di Mondavio che ora è guarito L'ospedale Marche Nord è l'unica struttura in tutta la regione Ad aver attivato un vademeicum di terapia che prevede l'infusione di plasma iperimmune E pare che finora stia dando risultati che fanno ben sperare C'è preoccupazione a Porto San Giorgio nel Fermano Dove una persona risultata positiva al Covid-19 aveva partecipato La sera del 14 agosto ad una cena nel ristorante di uno stabilimento balneare L'area vasta 4 acquisito dal proprietario dello chalet La lista dei prenotati alla serata E fa sapere che tutti verranno contattati telefonicamente per eseguire il tampone L'area vasta ha anche lanciato un appello affinché chi abbia partecipato alla cena Senza prenotazione o al dopo cena nel locale Si faccia avanti e contatti l'ufficio relazioni con il pubblico dell'azienda sanitaria Al fine di potersi sottoporre al tampone Per le autodenunce sono stati diffusi i numeri di telefono Un indirizzo email e un numero whatsapp dove inserire dati anagrafici Codice fiscale e recapito telefonico E se a Pesero alcuni gestori hanno permesso lo svolgimento delle feste in spiaggia In barba all'ordinanza del sindaco A Fano molti gestori hanno deciso di non organizzare iniziative proprio per evitare assembramenti Simona Zonghetti Attenzione avvisiamo ancora la gentile Chiantela che secondo l'ultima ordinanza governativa Datata 17 agosto 2020 Già in vigore bisognerà indossare una mascherina anche in spiaggia Dalle ore 18 alle ore 06 Fatta eccezione sotto il proprio ombrellone nel tragitto per andare in acqua E sedute nei tavoli messe a disposizione per le consumazioni del bar Matteo Renzi gestore dei bagni Carlo a Fano richiama così l'attenzione dei bagnanti I megafoni della spiaggia si attivano più volte nell'arco della giornata Per ricordare la nuova ordinanza e le regole da rispettare All'ingresso poi così come in altri stabilimenti balneari Ci sono ancora i cartelli con le norme e i dispenser con i gel igienizzanti Ma non solo perché è stato accolto l'appello alla responsabilità Che il sindaco Massimo Serie aveva lanciato per Ferragosto Il primo cittadino non aveva firmato ordinanze Come il collega di Pesaro per evitare balli, animazioni e feste in spiaggia Aveva deciso però di richiamare tutti al senso di responsabilità E così c'è chi ha preferito evitare ogni tipo di iniziativa Per non creare assembramenti No, Bagnicarlo ha fatto un weekend normale Sempre comunque dedito alla sicurezza Perché quest'anno comunque noi abbiamo fatto questa scelta Compreso serale, quindi zero movida Abbiamo vissuto molto bene la spiaggia durante le ore diurne E non notturne E al giorno siamo stati molto attenti E abbiamo, ci siamo prodigati soprattutto per organizzare cose a seduti E nel miglior modo possibile Stando attenti alla sicurezza della situazione Perché comunque capiamo anche da quello che si sente oggi nelle televisioni Che insomma la situazione ricomincia ad essere piuttosto grave Com'è andata sabato scorso? Allora la giornata di ferragosto diciamo è stata molto soft Nel senso che abbiamo fatto quello che facciamo tutti gli altri giorni Quindi garantendo un servizio, bar eccetera Però la gente è stata molto brava perché comunque ha rispettato le distanze Hanno indossato la mascherina nei punti dove c'era un pochino più di assembramento Noi non è che abbiamo fatto le cose che facciamo gli altri anni anche perché non si poteva Anche fare, dare il cocomero rischi di fare un grosso assembramento di gente Quindi non l'abbiamo fatto Però è andato tutto molto liscio La gente ha partecipato I turisti, molti fanesi sono andati fuori Quindi era anche abbastanza tranquilla La giornata della domenica è stata più impegnativa perché c'era più gente Però devo dire che sono contenta dei miei clienti Quindi non ci sono stati problemi Speriamo di continuare così anche fino alla fine dell'estate Se da una parte i gestori hanno evitato feste e aperitivi in spiaggia Dall'altra c'è chi ha preferito comunque spostarsi nell'entroterra Con la speranza di trovare posti tranquilli e meno affollati Allora al ferragosto abbiamo fatto una scampagnata sul Monte Cucco Per cui abbiamo preferito evitare la costa Anche se la voglia ci sarebbe stata Però stanno, abbiamo detto dai meglio evitare di correre rischi Anche se in realtà c'era molta gente anche lassù però Alla fine dai penso sia mare che montagna L'importante è cercare di tenere un minimo di precauzioni, un po' di distanza Qual è lo stato d'animo dei giovani? Come ci si sta comportando? Ancora troppi assembramenti? È uno stato d'animo, siamo un po' in un limbo dai Ed è difficile Da un lato ci sarebbe la voglia di riprendere la vita normale Dall'altro vediamo che purtroppo la normalità ancora ho paura che sia lontana Non so se ha sentito anche a Pesaro il sindaco si è un po' arrabbiato Per queste feste in spiaggia e quant'altro Troppi assembramenti Di lei cosa ne pensi? Effettivamente bisogna rifare un passo indietro probabilmente Non siamo ancora fuori e quindi bisogna stare attenti C'è niente da fare Speriamo solo che passi prima possibile però ancora ci vuole un po' di prudenza Bisogna ancora prestare attenzione? È facile, mi diceva prima il bagnino che tocca fare attenzione Ti metti la mascherina ma poi la gioventù ce n'è poca Se vai al bar è pieno Ci sono ancora degli assembramenti? Tutti fiscicati, tutti fiscicati Non possiamo fare la fiera Per quello serve Lei che cosa ne pensa? Le discoteche non le dovevano chiudere Non le dovevano proprio aprire Proprio aprire Adesso con la fiera a settembre a Fanno sarà un boom di contagi Sicuramente Perché guardano solo il lato economico non guardano la salute Troppa gente incompetente ci sono E come avete sentito ci sono diversi fanesi che sono contrari allo svolgimento della fiera di San Bartolomeo Che si dovrebbe tenere tra qualche giorno a Sassonia di Fanno In queste ore il comune sta decidendo se confermare o meno questo evento Filippo Pucci Con l'aumentare dei casi di persone positive al coronavirus In queste ore l'amministrazione comunale di Fanno deciderà se svolgere o meno la fiera di San Bartolomeo In programma il 24, 25 e 26 agosto Numerosi infatti i commenti sui social di cittadini contrari allo svolgimento dell'evento Con un conseguente pericolo di nuovi focolai Sono ovviamente giornate cruciali per le decisioni Ci stiamo confrontando con le città di Pesore Senigallia Con la regione Marche Con la prefettura Perché sappiamo che in un qualche modo i contagi sono in aumento Quindi sappiamo che ci vuole molta attenzione in questo momento E nelle prossime ore prenderemo una decisione sul da farsi Al momento la conferma è stata dettata dal fatto che ci sono tante famiglie e tante persone Che lavorano nell'indotto delle fiere, dei mercati E in questo momento anche il governo nazionale ha dato la possibilità di portare avanti questo lavoro Quindi la nostra città ha dato una conferma Ma ovviamente non abbiamo escluso e ogni giorno stiamo trattando l'argomento Perché se le cose si modificheranno, se c'è un aumento dei contagi Quindi se non possiamo garantire la salute delle persone Ovviamente la fiera sarà sospesa Intanto a Sassonia di Fano continua il successo dell'evento all'Anfiteatro Rastat Dal titolo Elucevan le stelle La rassegna serale dedicata alla musica, spettacoli ed eventi a cielo aperto Delle serate fantastiche che hanno regalato delle emozioni particolari Veramente in un luogo suggestivo e ritrovato come l'Anfiteatro Rastat Serate musicali, una serata centrale Quella dedicata al maestro Morricone con l'orchestra sinfonica Rossini Dove abbiamo regalato, dedicato questa scogliera tricolore appunto al maestro E tante altre serate che hanno funzionato Un omaggio a Michael Jackson da parte di Fortuna Dea Un omaggio a Lucio Dalla delle serate medievali Quindi tutte le serate che hanno dato un grande respiro ad un luogo di grande accoglienza turistica Devo dire la verità, devo ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato Perché tutto questo è stato realizzato nella massima sicurezza Con la misurazione delle temperature, con i termoscanner all'ingresso, con il distanziamento Quindi veramente una manifestazione che in questo momento riesce a dare tranquillità e relax Alle persone che vengono nella città in sicurezza Ma comunque vivendo appieno la città E come dice lo stesso titolo della rassegna Le stelle che stanno insomma a cielo aperto Un camion di Aset ha urtato il balcone di una casa situata all'incrocio tra via 4 Novembre e via Don Bosco a Fano L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 17, mentre l'autista era in fase di manovra Sul posto, come vedete nella foto inviata da un nostro reporter di strada Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco di Fano Per verificare la stabilità del terrazzo L'edificio non è stato compromesso dal punto di vista statico Ma nei prossimi giorni si dovrà intervenire per ripristinare il danno Il capogruppo in Consiglio Comunale dei Fratelli d'Italia, Nicola Baiocchi Si ha querelato il sindaco di Pesaro Ricci in merito al Consiglio Comunale dell'11 maggio scorso Ricci aveva dato dello sciacallo al consigliere Baiocchi Come le dicevo, se io fossi stato nella sua situazione e avessi avuto anche il minimo sospetto Che il mio comportamento negligente e imprudente Avesse portato anche solo al contagio di una persona Non arrivo a dire alla volta Solamente al contagio di una persona Primo non avrei dormito la notte Secondo mi sarei dimesso un minuto dopo Cosa che lei, non avendo coscienza e morale Non ha fatto e non farà Quindi sono io che glielo dico Perché lei ha Lei, sindaco mi ascolti Lei ha contravenuto Lei regoli le parole Avvocato regoli le parole quando parla Io l'ascolto, lei regoli le parole Lei regola le parole Lei regola le parole Infatti parla così perché è nel video Perché altrimenti non parlerebbe neanche così Perché è un codardo che si nasconde dietro il video A dire queste menzogne Lei finisce se regola le parole Ha capito? Sindaco, sindaco Lei mi fa parlare per favore Per le cose che ha detto Sciacallo, lei è uno sciacallo Lei è uno sciacallo Nessuna scusa in 90 giorni Ma solo arroganza Il capogruppo di Fratelli d'Italia Nicola Baiocchi Commenta così a distanza di tempo Lo scontro con il sindaco di Pesaro Avvenuto l'11 maggio scorso Durante il consiglio comunale Sull'emergenza coronavirus Baiocchi ha deciso di intraprendere le vie legali Querelando Ricci Ho pensato, ho riflettuto E ho aspettato Ho aspettato tanto Ho aspettato tre mesi Ovvero il termine Per la proposizione della querela Perché speravo sinceramente Che il sindaco Avesse capito l'errore Che aveva commesso all'interno Di un consiglio comunale Offendendo me Per il ruolo istituzionale Che svolgo Ma anche per la professione Che svolgo E quindi non potevo fare Non potevo fare in modo diverso E ho deciso di intraprendere Quest'azione legale Che deve servire come Come monito Affinché queste cose Non succedano Non succedano più All'interno del consiglio comunale Non solo nei miei confronti Ma anche nei confronti Di tutti gli altri Quindi penso che sia stata La cosa più giusta E adesso vediamo Vediamo la magistratura Cosa dirà Ma non vi è un intento Un intento punitivo Nei confronti del sindaco Vi è soltanto una Secondo me Una giusta posizione Che qualcuno doveva prendere Perché chi svolge Un ruolo istituzionale Come quello di un sindaco Non può permettersi Di trattare in nessun modo Nessuna persona Né all'opposizione Né in maggioranza Baiocchi sottolinea Che le frasi Dette dal primo cittadino Assumono un atteggiamento Che non può ritenersi Tollerabile E dunque il deposito Della querela Spinge a reprimere La propotenza E l'arroganza Che non vanno Né tollerate Né permesse Un piccolo passo indietro Con delle semplici scuse Da parte di Ricci Sarebbero state sufficienti Il sindaco dice Baiocchi Che veste quella fascia Tricolore Dovrebbe astenersi Dall'esprimere Giudizi personali Proprio per il rispetto D'onore a quella fascia Che indossa Che lo legittima Rappresentare Tutti i cittadini E tra poco Dopo il telegiornale Andrà in onda La terza puntata Di Missione Salute Questa sera Il dottor Andrea Farnese Darà alcuni consigli Alle persone Che sono state ricoverate In ospedale A causa del covid-19 Sentiamo un estratto Di questa intervista Dopo questi mesi Che siamo rimasti Chiusi in casa Per lungo tempo Soprattutto Gli anziani Visto il Fisiologico Decadimento Con il passare Dell'età E soprattutto Il fenomeno Della sarcopenia Dove si ha Una perdita Di massa muscolare Il rischio È quello Di incorrere Poi in problemi Fisici Nella ripresa Delle attività Quotidiane Per ovviare Questo problema Si può pensare Di fare Delle attività Degli esercizi Sia in casa Con tutte le dovute Precauzioni Del caso Quindi stando attenti Agli spazi Dove si effettuano Gli esercizi E stando attenti A non rischiare Di cadere Quindi è opportuno Fare degli esercizi Soprattutto a terra Con un tappetino Dove il rischio È limitato Soprattutto quando Non si è assistiti Da un professionista In questo caso Sarebbe ottimale Rinforzare Tutta la muscolatura Posturale Che può essere Il core Quindi gli addominali La parte Della muscolatura Del bacino Soprattutto i glutei Che sono muscoli posturali Che ci tengono in piedi Per lungo tempo Che ci danno Un sostegno Nelle attività quotidiane E un rinforzo Dell'arto inferiore Con un rinforzo Del quadricipite L'ideale Sarebbe farlo In scarico Quindi Tutte attività Da fare In decubito Supino Quindi sdraiati a terra E per scoprire Quali sono Questi esercizi Vi invito A rimanere Sintonizzate Qui sul canale 17 di Fano TV È tutto Per l'informazione Grazie per aver seguito Occhio alla notizia Ci vediamo domani mattina Alle 7 in diretta Con la rassegna stampa Occhio ai giornali Arrivederci Arrivederci